Siamo un'azienda italiana leader di settore nell'automazione del processo produttivo che fonda il proprio successo sul patrimonio di esperienza acquisito in 30 anni di attività nello sviluppo di software. Analizziamo e proponiamo soluzioni su misura, progettiamo e sviluppiamo software di automazione di impianti industriali ad elevati standard qualitativi. L'engineering è il cuore pulsante di un'azienda moderna. È su questo presupposto che lavoriamo, garantendo il coordinamento dell'intero processo di fornitura sia sotto il profilo logistico che tecnologico. L'affidare ad un unico regista la realizzazione di un impianto di produzione consente di avere un sistema di notevole valore aggiunto, omogeneo e perfettamente integrato in tutte le componenti, garantendo in futuro di espandere il sistema in maniera efficace e a costi più contenuti. Effettuiamo interventi di rinnovo di impianti e o macchine al fine di rendere conforme l'impianto, il quadro elettrico ed il software alle attuali normative vigenti. Ogni soluzione di automazione viene pensata e realizzata su misura, grazie ad un team di ingegneri elettrici, elettronici ed informatici altamente specializzati che lavorano congiuntamente, fornendo un prodotto innovativo ed efficiente. Sviluppiamo sistemi di gestione e supervisione dell'impianto integrandoli con sistemi MESS, fondamentali per il management aziendale come interfaccia tra la gestione economica dell'azienda e quella impiantistica sul campo. Operiamo in molteplici comparti produttivi. In tutti questi settori si affrontano diverse problematiche, dove cogliamo a pieno le esigenze del cliente e plasmiamo la soluzione di automazione su misura per lui. È dal 1986 che aiutiamo a migliorare la produzione industriale, ricercando sempre la perfezione e continuando a migliorarci anno dopo anno, offrendo servizi dagli elevati standard innovativi riconosciuti a livello internazionale. Grazie ai nostri standard qualitativi, al controllo in remoto e alla garanzia vita del software, il nostro fatturato è cresciuto costantemente. La nostra metodologia e la coesione dei nostri team permettono di gestire un considerevole numero di commesse, garantendo efficacia ed efficienza. Operiamo oltre i confini nazionali, servendo più di 10 multinazionali in oltre 40 paesi. I nostri software sono installati su oltre 1.000 impianti nel mondo. 3S Progetti Your System Integrator Partner Grazie a tutti!